buongiorno buon pomeriggio e buonanotte a tutti si lo so sembra un po luca giurato con questa nuova intro ma vi spiego il perché perché in questo modo posso rivolgermi direttamente a te che stai guardando ora il video indipendentemente da quando lo guarderai questo premetto che sarà un video più corto rispetto al solito buon 2019 a tutti ci siamo lasciati alle spalle il 2018 2018 che è stato un anno dove ci sono stati diversi video su questo canale proprio da questo volevo iniziare questo video iniziare questo 2019 insieme facendo una sorta di rewind di quello che è successo durante quest'anno e quindi quello che avete visto sul canale che io ovviamente ho portato sul canale comunque vi lascio il link qui sotto di ogni video che citerò se non l'avete visti andatevi a guardare abbiamo iniziato l'anno dando quasi fuoco a casa molti di voi se lo ricorderanno soprattutto chi mi segue al canale se tu che stai guardando il video non l'hai ancora fatto iscriviti al canale mi raccomando 2018 in cui il primo vero video è stato sperimento sociale che è stato poi anche uno speciale di san valentino domani san valentino no a me mi piace una ragazza io ho fatto un regalo praticamente preso questi siamo poi passati a una serie di blog possiamo dire di daily blog e di blog infatti c'è stata prima puntata per adesso di una nuova serie che ho accantonato leggermente che è stato into the wild giuliano sta salendo il problema è che c'è la chitarra e lo zainetto del milan in cima il giuliano è stato il monte bianco dai giuliano forza spero in questo 2019 di portare altri episodi di into the wild perché veramente è stata una gran figata è stato l'anno in cui sono andato il mio primo concerto il concerto a san siro della finale di Jax Fettels lo ripeto anche qui trovate il video qui sotto e poi c'è stata la serie la prima grande serie del canale quattro episodi lungo viaggio verso la spagna lungo viaggio verso alicante in cui sono successe 3.000 cose 3.000 avventure dai soldi buttati praticamente al casino al centauro che si schianta con la bicicletta sulla scala mobile al grande lavapiatti poi c'è stato il viaggio per valenza insomma un sacco di episodi un sacco di cose che sono successi e hanno portato poi alla conclusione la stagione 2018 sul canale cosa vedrete su questo canale nel 2019 innanzitutto se non siete iscritti non vedrete una mazza perché non saprete mai quando escono i video torneranno le challenge finalmente che adesso c'è stato credo solo una il primo video del canale è stato rischio il gusto forse tornerà un esperimento sociale dipende da com'è un po' la situazione non vi vorrei spoilerare troppo sto pensando di far prendere un'altra piega a questo canale però non ne ho idea se questa idea possa essere realizzata o meno ma comunque vedremo poi più avanti niente quindi è un video corto non so quanto era a lungo ma era solo un video di presentazione del nuovo anno spero che questo video vi sia piaciuto ci vediamo prossimamente nel 2019 anzi in realtà già stiamo nel 2019 buongiorno Giuliano ma altra cosa molto importante ho fatto un altro profilo vista ve lo lascio qui sotto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per ricevere le notifiche quando usciranno nuovi video lasciate un like che è sempre gratuito niente ci vediamo nel prossimo video per iniziare questa stagione insieme per chi vorrà e per chi vorrà seguirmi bacioni bella gente ciao